Ho deciso di scendere in politica attiva perché mi sono stancato di parlare con amici e conoscenti tutti i giorni al bar, dovunque, in tutti i posti possibili, immaginabili, delle solite cose, dei problemi di questa città. Io sono un Lions, appartengo all'Aims International e questo mi ha insegnato a svolgere una vera e propria vocazione al servizio, cioè servizio per gli altri, ovviamente di cui noi facciamo parte perché siamo tutti parte di una comunità. Cosa dire delle donne di Bologna? Sono d'una bellezza veramente fuori dal normale, sono tutte belle, tutte, tutte, perché ogni donna ha in sé qualcosa di unico e di ripetibile. Non sono assolutamente in contraposizione una serietà professionale che è assolutamente indispensabile durante il giorno in studio e la disposizione, la voglia di divertirsi appunto e di vivere questa città e di cogliere attimo per attimo ogni sensazione, ogni emozione. Bologna è una città, la città in cui sono nato, è una città, è una madre, non è una matrigna. In conclusione vi invito a darmi il vostro appoggio con la promessa che se sarò eletto, di rispettare fino in fondo tutti gli impegni programmatici. Grazie.